Una delle prime idee mi venne in mente mentre andavo a pagare il gas era la canzone se telefonando che mi ha chiesto Mina e lì ho sperimentato per la prima volta i tre suoni erano tre e in un tempo di quattro quarti l'accento tonico non capita mai sullo stesso suono fu una scoperta molto importante per la musica torale perché diventava implicitamente anche più orecchiabile non saprì che viverei vedi che è un'altra roba to 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 capita sempre qua ma sono diversi ogni battito a però me a a i i Grazie a tutti.